Salvinia Pietrelcina Il suo comizio in piazza Videoshock, il killer scavalca la bambina e caccia l'uomo che con il volto coperto da casco ha tentato di uccidere un pregiudicato in piazza nazionale a Napoli e ha ferito gravemente la piccola Noemi La bimba è sempre grave, agghiaccianti le immagini dell'assalto Demma contro Salvini con lui, paese violento Il sindaco di Napoli torna ad attaccare il ministro dell'interno e rinforzi promessi a Napoli non sono mai arrivati Con lui è cresciuto l'odio, ad Avellino il monito antica morra di Don Luigi Merola, colpa dei modelli tv sbagliati SOS dei commercianti, sosta breve gratis Parcheggi nel centro storico a Benevento, nella polemica interviene il presidente di Confesercenti, Gianluca Alvigi Favorire la sosta veloce nei pressi del centro storico Presentate già alcune proposte per aiutare il commercio La finanza scopre le fabbriche del falso, blitz delle fiamme gialle nel napoletano Chiusi due epifici abusivi a Casoria e Cerra Sequestrati macchinari per calzature, riproducevano le griffe di lusso in maniera perfetta Denunciati titolari, uno è cinese Costiera amalfitana, presso le targhe alterne Linea dura contro il caos traffico, nel vertice convocato stamane dal prefetto Gli amministratori hanno iniziato a valutare provvedimenti restrittivi per auto e bus turistici Si lavora al senso unico e alle targhe alterne Eccoci, buon inizio settimana Ben ritrovati con l'informazione regionale del canale 696 In apertura l'ampia pagina dedicata al tour elettorale del vice premier Matteo Salvini Oggi in campagna da Avellino sul palco per presentare la candidatura di Biancamaria D'Agostino A sindaco ha attaccato Ciriaco De Mita e i contestatori della CGL La vecchia politica in campagna ha fallito per 50 anni Ha detto, sentiamo, com'è andata? E' salito sul palco del cinema Partenio con una felpa dell'Avellino Sala gremita per l'investitura di Matteo Salvini a Biancamaria D'Agostino Orgoglioso qui di correre da solo Se avessi voluto fare accordi con la vecchia politica sarei andato a Nusco Largo ai giovani, a 91 anni Ma, però, la democrazia funziona, ognuno è libero Io, se il buon Dio e il padre mio mi concederanno di arrivare a 91 anni Ma mi godo i miei nipotini a 91 anni invece di continuare a fare il sindaco La Liga incarna il governo del fare, lo stanno capendo anche qui in campagna Dove la politica ha fallito per 50 anni Cosa ci fa Salvini in campagna? Io rispondo, ma che cosa hanno fatto i politici campani per 50 anni per la gente della campagna? Che cosa hanno fatto? Promesse, promesse, promesse Poi il fuori programma con un veterano sommergibilista che gli regala una bottiglia di Taurasi Così almeno Saviano chiede anche oggi le mie dimissioni Perché un ministro con una bottiglia di vino in mano e il cappellino dei sommergibilisti Chissà che cosa avrà voluto dire Parallelamente la contestazione della CGL e della sinistra in Piazza Libertà e davanti la prefettura Salvini ne ha anche per loro, sono esserini simpatici da tutelare come i Panda Mando un affettuoso bacione anche ai dieci comunisti fischiettanti che ci sono fuori Che rendono questo lunedì più divertente La chiusura del vice premier tocca invece le corde calcistiche della città Visto che da milanista di calcio ormai mi interesso poco Forza Avellino in bocca al lupo per quello che vi aspetta E speriamo di ritrovarci presto in Serie A E poco prima Salvini era stato nella terra di San Pio a Pietrelcino Dove ha detto di aver fatto una preghiera per la piccola Noemi La bimba colpita da un proiettile a Napoli durante una sparatoria Vediamo Un paese del genere ovviamente il cuore si apre Le polemiche politiche romane sono lontane, lontane, lontane Il ministro dell'interno Matteo Salvini nei luoghi natali di San Pio Il tour campano del leader della Lega comincia nel Sannio a Pietrelcina Dove Salvini rilancia l'impegno per la sicurezza e dedica una preghiera Alla piccola Noemi ferita per errore in un agguato di camorra Non è accettabile, dovremo fare ancora di più e meglio E ringrazio le forze dell'ordine che si spari in pieno giorno E ci vadano di mezzo bimbe innocenti Per cui stiamo pregando e sono qua anche per questo Ma i numeri dicono che le forze dell'ordine stanno facendo un lavoro straordinario E anche a Napoli i ferimenti e i omicidi di camorra sono la metà Rispetto a quelli che c'erano nell'anno precedente Mi auguro che il sindaco si occupi di Napoli E non di allestire flotte per andare a raccogliere immigrati in mezzo al mar Mediterraneo Siamo qua a pregare e io poi da ministro oltre la preghiera mando poliziotti, carabinieri e accendo telecamere Una visita nel centro antico del paese accompagnato dal sindaco Domenico Masone E dal parroco rettore il frate Cappuccino Giuseppe Donofrio Dalla torretta alle case di San Pio e fino alla chiesa in cui il santo fu battezzato L'omaggio a un grande uomo che ho studiato, amo, apprezzo e in piccolo chiedo ogni giorno un aiuto e un consiglio Visto che col lavoro che faccio ne ho bisogno Nel suo giro spazio per i selfie compresi quelli con una coppia di sposi Per il saluto ad un centenario pietra il cinese e per un assaggio ai prodotti tipici del sannio Senza dimenticare la politica, nessun rapporto con Clemente Mastella Damassi è detto d'accordo alle richieste del sindaco di Benevento Che per i comuni in dissesto aveva auspicato parità di trattamento in vista del decreto Salva Roma Non ho nessun rapporto con Mastella e non mi manca onestamente Non ci sono cittadini serie A e cittadini serie B, sindaci serie A e sindaci serie B Sono convinto che l'autonomia farà bene soprattutto alle regioni del sud Dove troppi politici hanno sbagliato senza pagare, senza risponderne a nessuno In chiusura un augurio al Benevento Calcio Da tifoso dico in bocca al lupo a tutti E il copione si ripete anche a Salerno Ma è stata una mattinata di caos nella città di De Luca I Cinque Stelle hanno bloccato per oltre due ore i lavori di realizzazione del palco Che ospiterà l'alleato di governo Matteo Salvini Vediamo Mattinata ad alta tensione politica quella vissuta a Salerno Prima dell'arrivo del vice premier Matteo Salvini Come anticipato nei giorni scorsi I Cinque Stelle hanno bloccato per oltre due ore il montaggio del palco Allestito in piazza Portanova I grillini hanno contestato la mancata autorizzazione Arrivata al termine di una mattinata convulsa Nella quale è stata convocata d'urgenza una seduta di giunta A fronteggiarsi in piazza non da alleati come a Roma Ma stavolta in veste di competitor I gruppi dirigenti di Lega e Movimento Cinque Stelle Salerno Sì noi siamo venuti questa mattina all'ora e nove Abbiamo sollecitato i vigili urbani perché sapevamo che non c'era questa autorizzazione I vigili urbani sono intervenuti e hanno constatato l'assenza di autorizzazione Abbiamo fatto bloccare per due ore i lavori Poi adesso è stata appena girata questa autorizzazione Però noi vogliamo darci un attimo un'occhiata perché fa riferimento a una delibera di giunta Che dicono che è immediatamente eseguibile Però noi non la vediamo ancora pubblicata Quindi per quanto ci riguarda vogliamo capire se effettivamente è in vigore o meno Poi la cosa da sottolineare è che la richiesta della Lega è stata fatta il 6 maggio 2019 Nell'autorizzazione si è integrata Mentre hanno tappezzato comunque la città di manifesti In assenza di autorizzazione a questo motivo E io ora volevo capire se in questa città si comanda De Luca, Napoli Oppure le piazze sono a disposizione di tutti i cittadini Comunque vedremo nei prossimi giorni come agire Perché ci sta qualcosa che comunque non va in tutta questa procedura C'è stato un piccolo contrattempo dovuto alla mancanza di una firma su un foglio di autorizzazione Ma niente di che Insomma la questione è stata sanata nel giro di poco più di un'ora Quindi riprendiamo i lavori E regolarmente oggi pomeriggio alle 3 e mezza il ministro sarà qui con noi Ancora una tragedia sul lavoro In provincia di Napoli un operaio della ditta Tecra Che a Marano gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani Ha perso la vita in via sconditi A due passi dal municipio L'uomo Salvatore Arcello 32 anni Sposato e padre di due figli È stato schiacciato dall'autocompattatore con cui era in servizio Sul posto i mezzi di soccorso, i carabinieri La strada è ancora off limits La dinamica dell'incidente al baglio dei militari dell'arma di via Nuvoletta E torniamo sul guato di Camorra di Napoli In cui è stata ferita Noemi Perché c'è il video Ci sono le immagini che ritraggono il killer di Piazza Nazionale Fare fuoco tra la gente Il sicario passa due volte sul corpo della bambina Vediamo Sembra quasi impacciato, un po' imbranato Che non sa maneggiare l'arma È l'uomo vestito di nero immortalato Dalle telecamere della videosorveglianza del bar Che ha ridotto in fin di vita la piccola Noemi Le immagini shock ritraggono proprio la sequenza della sparatoria in Piazza Nazionale L'energumeno, stazza larga e goffa Vestito di nero, un casco nero È da poco sceso dal sellino di una moto Fa qualche passo in direzione di Nurcaro Il suo obiettivo Che sta al centro del marciapiede A pochi passi da un negozio di parrucchieri Il killer di spalle, la vittima di faccia Prova a scarrellare la pistola Un tentativo maldestro che allerta Nurcaro Lo scuote all'improvviso La vittima fugge Mentre piena corsa il tizio con l'arma dà inizio al fuoco Ci è riuscito anche se ora il bersaglio è mobile Scappa e gira l'angolo La vittima mentre quello che sta alle spalle continua a sparare E finisce con il colpire anche la bambina di quattro anni Il sicario nella fuga scavalca la bimba a terra Non una sola volta ma due La prognosi della piccola Noemi resta riservata Resta ancora sedata e collegata al ventilatore meccanico Per il persistere dell'insufficienza respiratoria Strana dinamica per un delitto di camorra Il killer era da solo Non era in sella agli scuteroni Ma inforcava un mezzo diverso Atipico, meno scattante come una Benelli Un'inchiesta che fa i conti doverosamente Con il cognome della vittima Quello di Salvatore Nurcaro Che viene ricondotto ancora una volta ai Rinaldi Del rione Villa Questa città non è indifferente Ci libereremo dalle forze del male Ma abbiamo il diritto e il dovere Di chiedere allo Stato che faccia di più Così il sindaco De Magistris Che questa mattina ha attaccato duramente Il ministro dell'interno Salvini E nel contempo ha chiesto aiuto Per distruggere il modello drogato Degli eroi di Gomorra Ha dichiarato il sindaco Che per la prima volta attacca anche la fiction Scritta da Roberto Saviano Vediamo Gianluca non c'è più Antonio non c'è più Giuseppe non c'è più Alberto non c'è più Quanto ancora sangue Bisogna versare Per amore di questa città Centinaia di persone hanno marciato al centro di Napoli Ieri mattina per dire Basta alla camorra che uccide gli innocenti Basta alle sparatorie in pieno giorno Dopo due giorni De Magistris rompe il silenzio Su quanto è accaduto al centro di Napoli Dove è stata ferita la piccola Noemi E non risparmia nemmeno una critica Indirizzata a quello che ha definito Il ministro dell'insicurezza Noi abbiamo come dire Il diritto dovere di chiedere allo Stato Che è venuto il momento di fare di più Io devo essere sincero Che bisogna fare di più Questa città si libererà Di queste forze del male Io ne sono certo Perché quello che è accaduto venerdì pomeriggio È un attacco alla città È un ministro inadeguato Incapace di rispondere alle esigenze di un paese È più volte venito a Napoli Illudendo la città Dicendo che avrebbe mandato più forze di polizia Questo non è accaduto Un ministro che anche mentre la bambina Viene portata in reanimazione Continua diciamo Con il ghigno A postare su Facebook Immagini in cui mangia In cui spara cazzate Un ministro che nelle ultime ore Si permette di dire Che i camorristi si sparino tra di loro È talmente distratto Questo ministro dell'insicurezza Che Nenzi è reso conto Che Noemi è stata ferita Proprio mentre un presunto camorrista Sparava un altro presunto camorrista Questo è il nostro ministro dell'interno Io penso che prima Questo paese si libera di questo ministro Prima l'Italia sarà più sicura E contro il modello Gomorra Anche Don Luigi Merola Che questa mattina ha incontrato Gli studenti del liceo classico Marone di Avellino E ha lanciato un monito Il governo deve essere più presente Vediamo Troppi modelli sbagliati in tv La camorra è sempre più spietata Don Luigi Merola Parla ai ragazzi del liceo classico Virgilio Marone di Avellino Che questa mattina Ha accolto il prete antica morra Nella palestra della scuola Dove non a caso sono stati affissi manifesti Per la piccola Noemi La cultura e la legalità Deve partire dalla chiesa Dalla scuola e da tutti gli altri enti Lo stato c'è ma non basta La camorra deve essere aggredita In questi anni Il Parlamento ha fatto molto poco Per sconfiggere questo cancro Perché venendo a Napoli Si ha l'impressione che le regole Non vengono proprio rispettate Cioè noi abbiamo 10.000 poliziotti E carabinieri a Napoli Nessuna città ha tanti questi uomini Com'è possibile che si continui a sparare? Com'è possibile che un killer Viene a Piazza Nazionale A pochi metri La fondazione che è il simbolo del riscatto Di una città nuova E si spara Nel pieno pomeriggio E dunque lo stato si deve svegliare Io ho l'impressione che sta ancora dormendo I modelli che si inseguono sono sbagliati Ribadisce Don Luigi Anche la scuola sta cambiando Bisogna impedire che ci sia Una nuova serie di Gomorra Basta Noi siamo Mentre il libro di Roberto Saviano È stato un grande libro La serie Gomorra Ha fatto sì Che i ragazzi hanno emulato Hanno imitato Gli atteggiamenti I comportamenti Il linguaggio Cioè noi a scuola Noi docenti Facciamo tanto per formare Questi ragazzi A pomeriggio o a sera Quando vanno a vedere Questa serie Di secondo me Lesioni spazzatura E che non facciamo altro Che continuare a perdere I nostri giovani Nell'ambito di un intervento In materia di abusivismo commerciale Contrasto all'industria del falso I militari del gruppo Della guardia di finanza Di Torre Annunziate Hanno sequestrato Due fabbriche Situate tra Casoria E a Cerra Il primo pificio Di Casoria Era di bito e attrezzato Per la produzione di calzature Con note griff contraffatte Sequestrati Undici macchinari industriali Oltre due milioni e mezzo Di accessori E articoli contraffatti Nei guai Il responsabile Che è stato denunciato Alla procura di Napoli Nord Per le violazioni In materia di contraffazione marchi Anche nell'opificio abusivo Di Acerra Si producevano calzature L'attività era gestita Da un cinese Scoperti Due lavoratori a nero Sequestrati Rifiuti e scarti Della lavorazione Smaltiti in modo non regolare Un dossier È stato inviato Alla procura di Nola Per i provvedimenti Del caso E cambiamo argomento Linea dura Contro il caos In costiera amalfitana Nel vertice Convocato Questa mattina Dal prefetto Allo studio Ci sono dei provvedimenti Restrittivi Per le auto E per i bus Turistici Vediamo Mai più scene Come quelle Delle ultime festività Con auto e bus Incolonnate per ore Ambulanze bloccate E un vero e proprio Delirio organizzativo Dopo la mezza rivolta Di autisti Sindaci e residenti Il tavolo convocato Dal prefetto di Salerno Francesco Russo Ha approntato Una serie di provvedimenti Restrittivi Per la costiera amalfitana A partire già Dalle prossime settimane Si sta lavorando A provvedimenti drastici Contro il caos Senso unico Da Salerno In direzione Vietri Targhi alterne E a lungo termine Anche una zona A traffico limitato La proposta precedente Era su base oraria Quindi con delle fasce Di mobilità Quindi un senso unico In direzione Vietri sul mare Con delle fasce orarie Controllate Dalle polizie municipali Che gestirebbero Il controsenso Poi sono allo studio Anche misure Più Forti Per quanto riguarda I weekend I periodi particolarmente Intensi O addirittura Il periodo estivo Mi riferisco al Q di agosto Che potrebbero prevedere Anche una riduzione Del traffico Anche delle auto Noi da mesi Stiamo lavorando Con le altre amministrazioni I sindaci Ma non solo La regione E la provincia Confrontandoci Anche con Le associazioni Di categoria Con i sindacati Per cercare Di trovare Le migliori Soluzioni possibili E che siano Anche Come dire Corrette Da un punto di vista Giuridico Proprio per Regolamentare In qualche modo Quello che è un dato obiettivo Un traffico Eccessivo Insostenibile Da parte Diciamo Della costiera Amalfitana Ecco proprio Potrei dire Che il concetto Di sostenibilità E' quello che ci sta Muovendo sempre Come prima base Per affrontare Questa problematica Momenti di paura Nel sanio Per un uomo E una donna Che hanno trascorso La notte All'addiaccio Dopo che si erano persi Nelle campagne Di Circello Di loro si erano Perse le tracce Ieri pomeriggio Erano usciti Per raccogliere Asparagi Marito e moglie Dopo una notte Di ricerche Fatte scattare Dai familiari Sono stati ritrovati Infredoliti Nei pressi Di un casolare All'alba di oggi Dai vigili del fuoco E dai carabinieri Nuovo tentativo Di suicidio Dal ponte Della panoramica D'Ariano Irpino La polizia Ha salvato in estremis Un padre di famiglia Ed è il quindicesimo Episodio Nel giro Di pochissimo tempo Vediamo Si è ripetuto Ancora A distanza Di pochi giorni Il ponte Della panoramica Continua a destare Forte preoccupazione D'Ariano Irpino Un uomo Di 53 anni Sposato E con figli Ha tentato Di lanciarsi nel vuoto E salvo Grazie all'allarme Sollevato Da un agente Della Cosmopol Residente nella zona E al tempestivo intervento Di una volante Della polizia Corsa sul posto Dopo pochissimi minuti L'uomo Che aveva già tentato Di scavalcare La barriera di ferro Era in uno stato confusionale Ai poliziotti Ha riferito Di trovarsi lì Per ammirare il panorama E' stato prontamente affidato Ai familiari Non meno di un paio Di settimane fa Ci racconta Un abitante Di Borgo San Domenico Era stata una donna A tentare il suicidio Salvata in estremisi Dal marito E prima ancora Un'altra donna Tratta in salvo Da un ex assistente Capo coordinatore Della polizia penitenziaria Fino a pochi mesi fa In servizio Nel carcere arianese Che stava percorrendo In auto La bretella Russo Anzani Un episodio Che ripropone Inevitabilmente La pericolosità Di un ponte Che da anni In quella parte alta E privo di protezione Nonostante il triste numero Di morti Se ne contano tre Fino ad oggi Almeno una quindicina Di salvataggi Ne sa qualcosa Il titolare di un'azienda Che ha sede Proprio sotto il viadotto Viviamo con il terrore Addosso ogni giorno Per non parlare Di ciò che viene lanciato Dall'alto Pietre Bombole di gas Televisori E persino un cane Stiamo aspettando da anni Che si risolva questo problema Purtroppo sottovalutato Dalle varie istituzioni competenti Nonostante Le ripetute lettere Di denuncia E sollecitazioni Parcheggi nel centro storico A Benevento Interviene il presidente Di Confesercenti Gianluca Alvigi Che chiede di favorire La sosta veloce Nei pressi del centro storico Con disco orario E ticket Sentiamo Prosegue a Benevento Il dibattito Sui parcheggi in città Dopo la riunione Delle scorse settimane Con i settori Mobilità E attività produttive Ora i commercianti Chiedono un riscontro Rispetto alle proposte Avanzate In quell'occasione In particolare Per il centro storico Confesercenti ribadisce La necessità Di tornare al disco orario Con ticket E di dare seguito A quanto discusso Nel tavolo di confronto Con i rappresentanti Di categoria In tutte le altre zone ZTL d'Italia Ci sta la rotazione Col disco orario Con il grattino Che viene diffuso Negli esercizi commerciali Nelle tabaccherie Negli esercizi convenzionati Che si mettono a disposizione Per poter facilitare La sosta In modo veloce Innanzitutto Quindi dalla mezz'ora All'ora Nelle zone Adiacenti Nella ZTL Ad oggi dunque Confesercenti Chiede di conoscere L'iter avviato Rispetto alle proposte Avanzate Se sono state portate Al settore Se sono state Discussi all'urbanistica Se si è rivista La possibilità Di un piano Un regolatore urbanistico Dove inserire Queste modifiche Quindi questi accorgimenti Se è stata avviata Una discussione Da portare In consiglio comunale Cioè voglio capire L'iter di questa richiesta A che punto sta L'obiettivo resta La necessità Di risollevare Le sorti Delle attività Del centro storico Ancora le prese Con forti difficoltà Noi dobbiamo conciliare La pedonalizzazione Con l'aspetto commerciale Perché questa è una strada A vocazione commerciale Morì in ospedale A Campobasso Per cure non adeguate Aveva solo 19 anni Una tragedia Che destò forte impressione Quella di Giuseppe Iapicca Uno studente universitario Di Mirabella e Clano Che si trovava in Molise Per motivi di studio Ora il tribunale Ha condannato Il medico in servizio Al pronto soccorso Dell'ospedale Cardarelli Di Campobasso È stato riconosciuto Colpevole Di omicidio colposo Ed ha rimediato Una condanna A un anno e quattro mesi Di reclusione Pena sospesa E al pagamento Dei danni Alla parte civile Da quantificare Oltre alle spese processuali Sono consapevole Che niente e nessuno Mi restituirà più Giuseppe Afferma il padre Bruno Iapicca Stimato imprenditore Però giustizia è fatta Lo dovevamo a nostro figlio Alla sua memoria Troppe falsità Erano state messe in circolo In quei giorni La realtà emersa Anche dalla verità processuale Ha riabilitato La figura Di Giuseppe Furti tra la spazzatura A Salerno Il comune Fa partire Una task force Della polizia municipale Al via i controlli Per incastrare E multare I ladri Di rifiuti Che imbrattano Le strade Una task force Della polizia Municipale In Borghese In giro di notte Per i quartieri Di Salerno Contro gli incivili Del sacchetto Questa la risposta Dell'amministrazione comunale In seguito al verificarsi Di razzie Tra l'indifferenziata Con conseguenti strade Imbrattate Dall'abbandono Dei rifiuti scartati Dai ladri di spazzatura Pronti controlli E maxi multe Per stanare Chi gestisce Illecitamente La frazione Indifferenziata Domestica Ecco cosa ne pensano I salernitani E' una buona cosa Almeno abbiamo Un po' di ordine Un po' di igiene E adesso andiamo A incontrare l'estate Penso che sia Una buona iniziativa Perché Effettivamente Si vedono Tanti incivili Che Lasciano Anche sacchetti Soprattutto Nelle zone periferiche Dove anche vivo Anch'io E quindi Sono poi Questi sacchetti Diventano oggetto Di animali randaggi E anche di persone Alla ricerca Di qualcosa Il comune Dovrebbe precedere In questo caso Perché appunto Si tratta di materiali A volte anche preziosi Come il tungsteno Che sta nelle lampadine Per esempio Io praticamente L'altro giorno Ho trovato tutto Un sacchetto sventrato Però non credo Che avessero rovistato E il problema È che poi Certe volte Rimane parecchi giorni Questa roba Quindi più che la task force Ci vorrebbe qualcuno Che poi spazzasse Io credo che ci sia Anche un altro problema Le persone adesso Non portano più La spazzatura Non fanno più La raccolta differenziata Molti per esempio Portano quello che vogliono Quando vogliono I più controlli Sì E anche forse Più multe Si fa Diciamo così Una violenza Quella che La Come dire La civiltà E si chiude qui Il nostro telegiornale In regia Aldo Finizia Grazie per averci seguito Anche oggi Adesso ci sono le previsioni Del tempo Arrivederci Grazie per averci seguito Grazie a tutti